ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi facciamo un altro video unboxing cominciamo ad aprire pacco 1 2 e 3 ecco fatto vediamo cosa c'è ritorno al futuro quasi da entrare della scritta numero 15 ritorno al futuro numero 14 ritorno al futuro numero 13 ritorno al futuro vediamo numero 12 allora abbiamo l'uscita numero 12 numero 13 è una ruota scusate qua abbiamo altri pezzi il numero 12 il treno a disco e vari componenti la molla numero 14 sembra un'altra freno a disco la molle e altri componenti al numero 15 un'altra ruota praticamente sono due ruote complete grazie a tutti per la visione a presto ciao